Per noi tutti il mondo è quello che possiamo vedere. Ma ci sono molti altri mondi sconosciuti nascosti ai nostri occhi. Oggi la scienza è in grado di esplorare queste dimensioni invisibili. La gravità dice che qualunque cosa vada in alto deve necessariamente ricadere a terra. Mantiene in orbita i pianeti e controlla la circolazione degli oceani. Anche se vediamo quello che fa, la gravità vera e propria è invisibile. Ma il nostro futuro non dipende solo da concetti grandi come la gravità. Il micromondo è altrettanto importante. Quello che non si vede è che praticamente ogni banconota è infestata da quasi 100 tipi di batteri diversi. Per lo più sono contaminate da stafilococchi e k-pneumonie, ceppi di batteri che provocano infezioni del sangue o polmonite. Sul piano di lavoro ci sono quasi il doppio dei batteri normalmente presenti su una tavoletta del water. E sul pavimento? Ce n'è quasi il triplo. Persino nella cucina più pulita il pavimento brulica di microbi. Perciò è inevitabile che alcuni di essi arrivino fino al nostro cibo. Spiare i mondi invisibili della terra ci fa aprire gli occhi su nuove fantastiche possibilità. Le cose che non possiamo vedere hanno un impatto incredibile sulle nostre vite, ma le dobbiamo cogliere con l'immaginazione. Ed è in questi luoghi eccitanti che sta il nostro futuro. Una terra misteriosa, al di là dei nostri occhi. Grazie. 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 Grazie.